Giovedì 11 di gennaio Buongiorno, ben trovati appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che si apre con la lettura delle prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo con il centro, apriamo con l'edizione di Pescara, il titolo principale riguarda la cronaca SOS dal rione assediato dalle bande via Passo della Portella. Il Sunia chiede un incontro con il prefetto di Pescara. Poi in alto la notizia della serata di ieri che riguarda la politica perché il governatore della regione Luciano D'Alfonso si candida al Senato, sarà capolista al proporzionale, dovrà lasciare la regione. La richiesta arriva direttamente dal segretario nazionale del PD Matteo Renzi e vedete gli scenari perché se D'Alfonso dovesse essere eletto ci saranno ovviamente le dimissioni. Al suo posto subentrerà l'attuale vicepresidente della regione Giovanni Lolli e poi l'immondizia da Roma, la sindaca Raggi risponde e manda mille tir di rifiuti e poi il caso A24 e A25, il caro Pedaggi resta del Rio, convoca strada dei parchi. Siamo sempre alla prima pagina del centro di visione di Pescara, contromano sull'asse a 82 anni, evitato lo schianto, è stato bloccato quest'uomo alla guida della sua auto dalla polizia stradale. Poi nelle cronache Pescara, ingegnere muore a 44 anni, donati gli organi e poi Art Bonus, sempre nel capologo adriatico, sconto fiscale a chi aiuta il museo Cascella, appena arrestato l'imprenditore della Giardini. Andiamo a vedere la prima pagina di L'Aquila Vezzano e Sulmona, lesioni colpose, scagionati, 10 medici, questo è il titolo di apertura. Secondo il perito non ci furono errori nel corso dell'intervento e poi a centropagina la procura apre un'inchiesta, muore durante i lavori, giallo al laghetto di Ortucchio. E poi l'Aquila, danni post-sisma, ecco i conteggi per le imprese, Vezzano lanciano rifiuti, scattano multe per 8 persone e poi Castel di Sangro, ospedale lontano, partorisce dentro lo studio medico. Siamo alla prima pagina del centro edizione di Teramo, i poli scolastici rischiano di saltare, serve una variante al piano regolatore ma dovrebbe farla il commissario. E poi Martinsicuro, vedete di spalla gli altri titoli della cronaca di Teramo e provincia, pugni e calcio alla moglie, patteggia tre anni, è accaduto a Martinsicuro, a Teramo a pranzo in 300 per finanziare il Coroverdi. E poi Marcone lascia l'aggiunta al voto con una sua lista e parliamo in questo caso delle elezioni amministrative comunali ad Atri. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro di Chieti, Lanciano, Vasto, il titolo di apertura. Eccolo qui, Vaccaro, la difesa in una lettera, il teatino arrestato per stalking, consegna al giudice le prove a suo favore. E poi vediamo, centropagina, il macellaio, dormo in negozio per paura dei ladri, ondata di furti a Vasto, le reazioni. E poi Chieti, provincia, causa da 4 milioni alla regione, Ortona, Dragaggio, arriva il sì e lavori di scavo al porto della cittadina. In provincia di Chieti, Vasto, vola il turismo, aperti 11 bed and breakfast. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'edizione Abruzzo del messaggero. Pedaggi, Toto pronto a trattare, sì al dialogo sugli sconti e pendolari, ma il Ministero non può scaricare i costi su di noi. La differenza potrebbe essere a carico della regione, ma strada dei parchi vuole garanzie. Vediamo poi anche sul messaggero la notizia della scelta del governatore D'Alfonso Capolista al Senato. Vedete nella foto l'attuale presidente della regione insieme a Matteo Renzi e la richiesta di candidatura al Senato, come abbiamo letto, è arrivata direttamente da Roma. E poi lasciano la casa con l'amianto, condannati a pagare 7 mila euro a pescare, il giudice ha riconosciuto la mancata comunicazione del preavviso. Vediamo anche in alto altri richiami degli argomenti e degli articoli che troveremo all'interno del giornale. Partiamo però dall'articolo, andiamo avanti con l'articolo di spalla, si parla dei rifiuti da Roma. Il sindaco della capitale Raggi dice mettiamoci d'accordo e poi in alto, come detto, alcuni richiami. L'Aquila con l'emaggio monitorata giorno e notte dopo il restauro. Le sciagure, sestrieri, parenti delle vittime di Rigopiano, è tornato l'incubo. Serie B, Pescara sfuma il passaggio di Mazzotta al Parma. Ma perché quando sembrava chiusa la trattativa per l'approdo in terra emiliana del difensore bianca-azzurro c'è stato il passo indietro? E dunque Mazzotta dovrebbe restare a Pescara. Intanto il portiere Antonino e Bovo rescindono i contratti. L'Aquila si autopresenta, il nuovo amministratore delegato Miani non farà la fine dell'Ancora. Ritroveremo tutti questi argomenti all'interno del giornale. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano. La città, il titolo di apertura è questo. Diga di Campotosto, non ti temo, quasi pronto. Il piano di protezione civile in caso di disastro per i comuni della Valle del Vomano. In alto, Popolare Bari, nel tritacarne delle Fai de Dem. Poi l'accordo, sì, ai rifiuti romani, ma solo per tre mesi. Poi a centro pagina, vedete Teramo, opera d'arte di esempio abbandonata alla Gammarana. E poi professione giornalista, serve una informazione corretta e responsabile all'interno del giornale. L'intervista al presidente dell'ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. In basso, Roseto degli Abruzzi, Tancrediani interdetti dalla scelta petalosa che intende la scelta di andare dell'esponente politico Teramano con il nuovo movimento politico dell'ex ministro, del ministro uscente della Sanità, Lorenzin. Vediamo poi in basso il calcio, il calcio mercato fermo, il Teramo di Asta resterà così come a tenere banco. E la vicenda Vicenza in Lega Pro. Abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, ora possiamo vedere invece le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, il duello su lavoro e vaccini. Intervista del Corriere della Sera con l'esponente leghista Salvini. Con noi salario minimo, non faccio patti, con i 5 stelle, dice Salvini. E poi, svolta di Sabeba Vara il divieto, l'Etiopia blocca le adozioni, il futuro incerto dei bimbi soli. Siamo a Repubblica, il titolo di apertura riguarda la politica, PD, Prodi e Veltroni in campo, sinistra unita alle regionali, partiti a corto di idee, ognuno vuole soltanto abolire qualcosa, dai vaccini allo spesometro. E poi vediamo qualche altro argomento sulla prima pagina del Quotidiano Repubblica, questo articolo in basso riguarda l'inchiesta sulla morte dello studente, del ricercatore italiano Reggeni in Egitto, troppi non ricordo, della prof di Cambridge e i PM le sequestrano le mail. Andiamo avanti, da Repubblica siamo alla stampa di Torino, l'accusa dagli USA, così la Russia ha pagato la Lega. Rapporto dei democratici al congresso, Salvini dice basta vaccini, no di Forza Italia, centro-sinistra, appello di Prodi all'unità, i 5 stelle puntano a candidare i rettori. E poi il cinema italiano non incanta più numeri negativi per il cinema del nostro paese, e nelle sale e le nostre pellicole dimezzano gli incassi, complice anche l'assenza di Zalone. Andiamo a vedere la prima pagina del Sole 24 ore, tassi e petrolio sfidano la ripresa, listini deboli, tensione sui mercati obbligazionari e titoli di Stato, il Brent viaggia verso quota 70 dollari. Siamo al Fatto Codidiano, Renzi e De Benedetti, le bugie che tutti fingono di non vedere, il leader, il raider e i media minimizzano, ma la verità è un'altra, scrive il Fatto Quotidiano. E poi vediamo quest'altro titolo, sempre sul Fatto Quotidiano, sexy corsi, bell'uomo cacciato, le ex allieve sfilano in procura. Siamo al manifesto, raggelati, vedete questo titolo in prima pagina, con la foto, appelli, scioperi e manifestazioni non sono serviti a niente, la Embraco di Riva di Chieri chiude e licenzia in tronco 497 dipendenti. Andiamo avanti, siamo al tempo, altro quotidiano romano, i militari nei campi tossici dei Rom, questo è il titolo di apertura, contro i roghi che inquinano arriva il piano terra di fuochi per le prime quattro baraccopoli, una cinquantina di uomini armati, tornano le telecamere. Siamo al libero, andiamo in giro per il mondo a fare 35 guerre, ci sveniamo, questo è il titolo di apertura del quotidiano diretto da Vittorio Feltri, le emissioni militari ci costano un miliardo, scrive Libero e poi Renzi deride Di Maio, non sa quel che dice, Berlusconi attacca Matteo sulle telefonate all'editore di Repubblica per le banche e dunque è iniziata la campagna elettorale già da diversi giorni. Il caso Renzi De Benedetti non è chiuso, sospetto di insider trading, l'ingegnere informato dall'ex premier ha fatto i soldi scommettendo sulla riforma delle popolari, il quotidiano La Verità lo dice qui nel titolo di apertura, pubblichiamo le carte con le accuse della Consob, la Procura chiede l'archiviazione ma i due devono spiegare molte cose. E poi vedete a centropagina questa foto con la governatrice della regione Friuli, Deborah Serracchiani che dice ai sindaci, lavatevi, il quotidiano della CEI, avvenire, apre con l'ennesima tragedia in mare, in mare altri morti, cento tra vittime e dispersi al largo della Libia e polemica sui soccorsi, Tripoli accusa Bruxelles, vedete questo è il titolo di apertura e poi si parla del rapporto porte aperte con ancora 215 milioni di cristiani perseguitati nel mondo. Siamo al quotidiano genovese del secolo XIX, vaccini lite nel centro-destra, Salvini aboliremo l'obbligo Forza Italia lo Gela Di Maio contro il terzo valico e poi inchiesta sull'obbligo di pagare le buste bio, così la legge rischia l'autogol, vedete in basso in questo articolo la bufala nascosta nel sacchetto. Il mattino di Napoli, corsi sexy, radiato il giudice, Bellomo ha leso l'onore delle toghe, la decisione del Consiglio di Stato sulle minigonne imposte alle allievi, la difesa destituito, dice senza un processo. E poi scuole antisismiche, Campania, fuori legge, l'ultimo quotidiano, il mattino che abbiamo preso in esame per quanto riguarda l'edicola nazionale, possiamo tornare al centro e alla notizia delle ultime ore che riguarda il governatore della nostra regione, Luciano D'Alfonso, che lascia la regione e va al Senato, correrà da capolista al collegio unico proporzionale, la richiesta arriva direttamente da Renzi, vedete nella foto il governatore D'Alfonso e il segretario nazionale, ex premier Matteo Renzi. La reggenza, vedete questo articolo in grigio di fianco, passerà al vice Giovanni Lolli in attesa poi di andare alle elezioni. Andiamo a vedere anche altri risvolti che riguardano questo argomento, la decisione del Presidente della Giunta vicino al voto delle regionali in base ai tempi consentiti dalle procedure. Si potrebbe tornare alle urne in autunno e tra i nomi dei candidati democratici si fanno anche quelli del Rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, del Sindaco di Atessa Giulio Borrelli. In corsa pure i parlamentari uscenti. Arriva l'immondizia da Roma, mille tir carichi di rifiuti sulle strade abruzzesi, la Sindaca della Capitale Raggi risponde alla lettera di D'Alfonso che oggi riunisce la Giunta in tre mesi più di 33 mila tonnellate di indifferenziato e un giro di 5 milioni di euro. Andiamo a vedere in basso dalla problematica che riguarda i rifiuti di Roma, quella dei pedaggi del Rio Convoca, strada dei parchi, vertice il 15 al Ministero, ma fino ad allora niente sconti sui pedaggi autostradali delle autostrade A24 e A25. E poi si parla a pagina 10 di come cambiano i consumi nella nostra regione. Abruzzesi a tavola più carne, meno pesce. La crisi misurata con il trend degli acquisti alimentari, la nostra regione ha ancora un segno meno, la ripresa è più lenta e poi cambiando argomento, cartelle sattoriali, il Movimento 5 Stelle dice la regione non delibera, rottamazione ferma al palo. E poi Leo Abruzzo, 30 candidati e il 16 arriva Fratoianni, si parla del partito del Presidente uscente del Senato Grasso e dunque di quello dei programmi e di quello che sarà nelle prossime settimane. E poi siamo in basso all'articolo che riguarda un importante convegno che c'è stato ieri a Pescara, si parla di infortuni sul lavoro, 30 morti in un anno, la lista tragica resa nota al seminario di CGL Cisleville, gli incidenti denunciati sono stati 14.636 ieri su questo incontro, su questo dibattito che c'è stato a Pescara, vi avevamo fatto vedere un servizio nel corso del nostro telegiornale. Siamo a Pescara, via Passo della Portella, il rione è una polveriera, vedete il titolo di apertura, SOS disperato degli inquilini assediati da bande di stranieri accompagnati da Pitbull. E poi il Sionia chiede un incontro al prefetto, fermare il degrado in via Rigopiano. Scusate, siamo ancora a Pescara, noi intimidite e recluse in casa, le donne sottoposte a continue minacce e costrette a vivere in modo invisibile, siamo sempre nella zona di via Passo della Portella. E poi, emergenza abitativa, la piaga degli abusivi nei cinque palazzi sono 18, per liberare un appartamento occupato senza titolo talvolta servono anni, i lavori di sistemazione costano in media 15.000 euro, ma l'Ater non ha fondi. E in basso, senza tetto, esposti in vetrina dall'assessore, l'esponente cittadino di Forza Italia, Ceroline, attacca l'Allegrino e le risponde, ho fatto solidarietà, la faccia anche lui. E poi ancora Pescara, muore a 44 anni, vedete questa notizia, e dona gli organi, ingegnere col pedito d'emorragia, celebrare l'equipe chirurgiche che hanno prelevato polmoni, fegato e reni. In alto, a Campobasso, scippo sventato da due poliziotti pescaresi e poi verso il voto, siamo a Pescara, il PD provinciale vuole più candidati della società civile. Gioielli da salvare, sconto sulle tasse per chi aiuta il cascella, attivato dal comune di Pescara, l'art bonus per 17 opere del museo, cittadini ed imprese avranno agevolazioni fiscali del 65% sulle donazioni. Ieri è stata presentata questa iniziativa in comune, allora possiamo andare a vedere il primo servizio, proprio sull'art bonus del comune di Pescara. Un'opera di mecenatismo che riguarda delle opere che si trovano all'interno del museo Basilio Cascella, ad opera di un privato, ovviamente c'è la vallo, la collaborazione dell'amministrazione comunale, di cosa si tratta in particolare? Sì, parliamo dell'art bonus che è stato introdotto a decreto legislativo 83 del 2014, poi convertito nella legge 106 e prevede una leva fiscale, cioè la possibilità di recuperare il 65% delle somme donate, quindi per farla breve ogni 100 euro donate se ne possono recuperare 65. Il primo progetto di art bonus che interessa il comune di Pescara si è scelto di farlo al museo Basilio Cascella e con una duplice direttiva. Da una parte il restauro di 17 opere tutte su supporto cartaceo, sia di Basilio che di Tommaso, la cosa bella è che molte diverse di queste opere erano nei depositi, quindi saranno fruibili appena restaurate a tutta la collettività. Per quanto riguarda l'art bonus, in Abruzzo la situazione non è proprio rosa, perché tranne un intervento a pianela di 34 mila euro sponsorizzato dalla BCC e un piccolo intervento di 600 euro, c'è questa possibilità qui a Pescara di recuperare questa somma e naturalmente di sponsorizzare il restauro di queste opere. Una notizia simpatica è che prima di far partire il progetto art bonus abbiamo avuto già un piccolo contributo ed è bello che non si è arrivato da un'impresa, da una grande impresa, ne è da una banca importante del territorio, ma è arrivato da uno storico che è Enzo Fimiani, che è il già direttore della Biblioteca Provinciale di Pescara. Restiamo sempre a Pescara, borse di studio per 19 dottorandi, l'università d'annunzio incassa un milione e mezzo di euro dall'Europa e prima in Abruzzo, è sempre a Pescara, mercato di prodotti locali ogni sabato nel mercato coperto di Via dei Bastioni assegnati 26 posti, si parte il 13 gennaio, l'ha detto l'assessore al commercio Giacomo Cuzzi, stalking e movida Vaccaro, la difesa tira fuori le foto e chiede la libertà per il 26enne, i legali del giovane accusato di aver perseguitato l'ex collaboratore delle serate al Tortuga smontano l'accusa dimostrando il rapporto amicale tra i due anche nel periodo dei presunti reati, spunta anche una lettera d'amore ma per i legali è screditata da selfie dei due, i post su Facebook riconducibili all'attività nei locali e poi in basso, 82 anni guida contro mano sull'asse, l'anziano è stato fermato dalla polizia stradale che evita lo schianto frontale con un Alfa Romeo e poi non convalidati due arresti a Rancitelli per droga, medici e chef stellati a confronto su Cibo che cura, l'oncologo Berrino, guru della dieta anticancro e romito al convegno voluto da Salvatorelli, medico scomparso. Con specialisti illuminari si parlerà di intolleranze, obesità, svezzamento, stress ossidativo e dell'approccio preventivo con l'alimentazione. E poi siamo a Pescara, nuovi parcheggi per disabili, firmata l'ordinanza sono 12, saranno a Piazza Italia, limite di velocità in via Paolucci e poi Stella per la nuova lavanderia tra le eccellenze del bere su un'app gratuita, il locale segnalato nella guida dei migliori cocktail bar del nostro paese. Siamo all'area metropolitana di Pescara, in alto, mumi, conferenze, siamo a Francavilla sull'arte ed un concerto. Ancora a Francavilla, saldi un po' di ossigeno dopo il flop di Natale, licenze per noleggio, auto con conducente, comune, vince, altar, bocciati i ricorsi dei titolari. A San Giovanni Teatino, ecco i premi, agli scolari ricicloni. Siamo a Montesilvano, assemblea pubblica, variante case, vista mare, mobilitati i comitati civici, confronto serrato con l'assessore Cozzi sulla delibera approvata dalla Giunta e subito contestata dall'opposizione e una parte stessa della maggioranza. E poi Canile, inchiesta archiviata, cade ogni achiusa per il sindaco di Montesilvano Maragno. E poi a Colle Corvino, questa bella notizia che riguarda il cane salvato nel pozzo di 20 metri dall'animale recuperato dei vigili del fuoco, che si sono calati giù. E poi call center Arca Voice, tutti a casa, licenziati 40 dipendenti, nessuno, siamo a Spoltore, nessun accordo con il gruppo Maran di Spoleto, che a ottobre comunicò l'avvio della procedura. E poi Orsini rilancia Nuova Pescara, operazione elettorale, lo dice il consigliere comunale presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Montesilvano, Mauro Orsini, che concorda con l'ex sindaco Cordoma. E poi siamo nell'area Vestina, lavori bloccati, Giardini arrestato il titolare della ditta, penne riunione lampo della maggioranza, ma già da qualche giorno il cantiere per rifare la nuova scuola appariva vuoto. Siamo a Popoli, opere concluse, i bambini tornano all'asilo del nido comunale della cittadina in provincia di Pescara. Siamo alla pagina di Chieti e Chieti provincia, in particolare a Vasto dormo in negozio per paura dei ladri, il racconto del macellaio Ciuffreda hanno provato a forzare la porta per rubare, ora non posso lasciare incustodito il mio locale. E poi a Chieti inchiesta sulla morte in sala operatoria, un intervento per la sostituzione del pacemaker si rivela fatale per un anziano di Rapino. E poi vedete più in alto Chieti, la provincia fa causa alla regione, scontro giudiziario da 4 milioni di euro. Siamo alla pagina dell'Aquila e provincia dal centro, a Urtucchio in questo caso è giallo, sulla morte di un ex camionista, il 63enne assisteva al taglio di Pioppi, forse ucciso dallo spavento, ascoltati operai residenti, la procura ordina l'autopsia. E poi aggressione a Roma, giornalista pestato da un operaio aquilano e poi partorisce nello studio medico Castel di Sangro, nottata movimentata, non c'era tempo per arrivare in ospedale. E poi ad Avezzano, Flavia sposa Francesca, storico sì a maggio, primo matrimonio fra donne ad Avezzano, amore nato all'Aquila. Siamo a Teramo, la minaccia di Campo Tosso, all'Armedica, il grido dei sindaci lasciati soli e senza sicurezze, i primi cittadini della Valvomano dicono che nel piano regionale manca un sistema per allertare la popolazione. E poi Mosciano, domani il referendum sull'integrativo all'Amadori, 1400 al voto. E poi in basso a Teramo, università, elezioni in Ateneo, l'U2 entra nel CDA, scelti i rappresentanti degli studenti, Piovan, dice risultato storico. Siamo arrivati allo sport, ma dobbiamo andare a vedere le pagine dell'inserto Abruzzo del messaggero prima di fermarci per qualche attimo. La corsa alle candidature, vedete anche sul messaggero come sul centro si parla di questa notizia arrivata nella serata di ieri. D'Alfonso, capolista per il Senato, primo nome del PD, la spinta è arrivata da Renzi in cerca di uno shock per arginare i sondaggi negativi. Strada in salita per uscenti e altri big sicuri soltanto da Alessandro e Chiavaroli. Nel centro-destra giochi ancora aperti, mentre tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle sono disponibili per un nuovo mandato. E poi liberi uguali, l'alternativa è Sclocco Omelilla e poi Lega Salvini raccoglie nuove adesioni. In basso si parla di autostrade, strada dei parchi, punta ai piedi, trattiamo ma niente oneri aggiuntivi. Per la società andiamo avanti, siamo alla pagina di Pescara. Fiume inquinato da idrocarburi, il forum H2O denuncia sversamenti noti da un anno e chiede di delocalizzare l'impianto di Abruzzo costiero. Il sollevamento della falda avrebbe danneggiato le fogne dello stabilimento, provocando la fuoriuscita di sostanze. E poi dall'Art Bonus, primi fondi per il Museo Cascella, abbiamo appena visto il servizio. E poi ingorgo chilometrico in tangenziale, traffico in tilt per un incidente. E poi mercato etnico, la Santroni chiede un sì alla coalizione sinistra italiana, dice andremo in aula solo per discutere questo argomento. L'opposizione ribatte con 1.200 emendamenti. E poi la bomba ecologica al Museo Colonna, il docufilm su Bussi. Siamo all'altra pagina di Pescara, pista passionale dietro lo stalking. Dalle intimidazioni emerge un'amicizia particolare. Ivan Vaccaro si considera più vittima che persecutore. Il GIP del Tribunale di Pescara di Carlo dovrà pronunciarsi entro i prossimi giorni sull'istanza di scarcerazione presentata dall'avvocato Supino. E poi la cronaca, anziano fermato dalla polizia stradale contro mano sull'asse, tragedia sfiorata. E poi via di casa per l'amianto, ma il giudice li condanna. E poi truffe online nei guai due montesilvanesi, bidoni sul web. E poi a fondo pagina Scicla e Baterno, stagione bianca con corsi e iniziative per tutti. Sì, è dunque iniziata la stagione invernale. Noi possiamo fermarci a questo punto per qualche istante e andare a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore. Poi come sempre torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Seconda parte di mattino 6, siamo alle pagine di Pescara e della provincia di Pescara dal messaggero. Vedete questa notizia che apre pagina 36. La valanga al Sestriere dell'altro giorno riapre le ferite dei parenti di Rigopiano. Immaginiamo il terrore delle persone rimaste intrappolate nelle loro case, ha detto il portavoce delle famiglie di Rigopiano, Gianluca Tanda. Poi ancora loro sono stati soccorsi. Intanto si avvicina il primo anniversario della strage che sarà celebrato giovedì 18 a Penne. E poi falsi tassisti cancellati a 300 licenze. Dopo dieci anni la sentenza del Tar pone fine alla guerra delle auto di noleggio con conducente scoppiata a Francavilla. E poi Baragno archiviato per l'ok al Canile è stata chiusa l'inchiesta. E poi a Penne un ticket maggiorato per le visite di controllo. Siamo all'Aquila. Le mamme di nuovo l'attacco. Vogliamo certezze sulle scuole. Non accettiamo che la campagna elettorale venga fatta sulla sicurezza dei nostri figli. Bisogna stringere sui tempi, avere tutti gli indici di vulnerabilità sismica. E poi comune nuovo conteggio, il centro-sinistra in recupero. E poi l'eccellenza, il Dipartimento di Scienze Umane nella vista dei migliori in Italia. Al San Salvatore dell'Aquila scatta l'allarme per i parti in calo. E poi l'inchiesta fondi non dovuti. Donna condannata. Ancora l'Aquila con le maggio monitorata 24 ore su 24. Questo è il titolo che apre pagina 38. Accordo tra comune e università. Anche la minima variazione sarà valutata e utilizzata per un intervento di manutenzione. E poi il dibattito. Buoni affari? No. Una presa in giro. I negozianti polemici. I banchi della fiera hanno tolto a noi gli introiti. E poi orchestra sinfonica. Pellegrino, direttore. Poi caruso all'ANAS. Ripristinate le strade di Campotosto. Euroservice, battaglia per il lavoro. La società appartiene alla provincia. Attualmente si trova in liquidazione. Poi cultura. Caterina della Notte al palazzetto dei nobili. Andiamo avanti. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona. Tribunale in apnea. Va via pure la GIP. La Prioletti lascia. Ma nell'immediato futuro fuori anche l'UPIA. Dal monocratico si rischiano rinvii per mancanza del sostituto. Poi partiranno il presidente Forgillo ed il giudice Giordano. A maggio arriveranno tre magistrati ordinari in tirocinio. E poi Ortucchio muore mentre lavora. Dubbi sulle cause naturali. Sulmona. Stazione. Il comitato vuole la riqualificazione. Ancora Sulmona. Centrale SNAM. Il comune si affida al professor Celotto ad Avezzano. Commissario ricevuto in comune. Il nuovo dirigente. E poi scusate commissariato ricevuto in comune. Il nuovo dirigente del commissariato di Avezzano. Il vicequestore della Polizia di Stato Giancarlo Ippoliti. E poi Pescasseroli. Mancati introiti i parcheggi. Vince il comune. Ad Avezzano da Lampedusa. Arriva Don Carmelo. Attesa nella città marsicana. Siamo a Chieti. Di primio pronte a bloccare i camion con i rifiuti di Roma. Il sindaco chiede garanzie su quantità del pattume. Tempi e impatto ambientale. Marzoli consigliere del PD. Chieti non può diventare una pattumiera. No. Assoluzioni imposte. Allora sulla vicenda di questo argomento dei rifiuti da Roma possiamo andare a vedere un servizio riepicologativo che fa un po' il punto, scusate, proprio su quello che è successo nelle ultime ore. Possiamo andare dunque, se la regia è pronta, a vedere il servizio. Tre mesi. Questo dovrebbe essere il lasso di tempo di accoglimento dei rifiuti aggiuntivi che arrivano dalla capitale rispetto a quelli che già vengono accolti nella nostra regione a partire dal 2014. La tempistica sarà ratificata però al termine della seduta di giunta regionale in programma per domani, anche se il presidente D'Alfonso al microfono di radio in blu questa mattina ha confermato la volontà del governo regionale di aiutare la capitale. La regione Abruzzo infatti ha una capacità di accoglimento superiore rispetto alle sue necessità, stimate in 250.000 tonnellate ed inoltre esiste, come detto, già un accordo con la regione Lazio per il trasporto e il trattamento dei rifiuti. Allo stato attuale, ha proseguito D'Alfonso nell'intervista, risulta una richiesta dell'AMA, la municipalizzata romana che si occupa della nettezza urbana, a cui la regione Abruzzo ha risposto chiedendo delucidazioni su quattro punti, quantità, tempistica, ritmo dei trasporti quotidiani e spinta alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in riva Altevere. Domande a cui ad oggi non si è avuta risposta, concluso D'Alfonso, che si è comunque detto pronto a dare una mano alla capitale, quale risorsa turistico-culturale dell'Italia. Tre sarebbero le destinazioni individuate per i rifiuti romani a Ielli, Sulmona e Chieti. Proprio il primo cittadino teatino, Umberto Di Primio, in una nota dice di essere pronto a vietare il passaggio dei camion se non ci sarà chiarezza su impatto ambientale, quantità, tipologia e durata del conferimento dei rifiuti. Se avessi dovuto autorizzare l'arrivo dei rifiuti nella discarica di proprietà del comune di Chieti, precisa il sindaco, avrei già sbarrato l'ingresso della stessa. Critico anche il forum abruzzese dell'acqua, che con Augusto De Santis parla di una scelta quasi obbligata della regione Abruzzo. Il nuovo piano regionale dei rifiuti, prevedendo una impiantistica sovradimensionata di molto, quasi il doppio rispetto al fabbisogno abruzzese, Preghen andrà a consolidare il fatto che l'Abruzzo si candida a ospitare rifiuti da altre regioni. Peraltro c'è un passaggio del piano in cui c'è scritto proprio l'Abruzzo si candida a importare rifiuti. Ora questo aspetto assolutamente inaccettabile perché ovviamente poi i costi ambientali di questi impianti sovradimensionati ricadono su noi abruzzesi. Per quello noi abbiamo criticato il nuovo piano regionale dei rifiuti perché fino al 2022 con questo sovradimensionamento impiantistico rischiamo di dover importare, anche perché altrimenti questi impianti o lavorano male perché lavorano sotto capacità, oppure vanno chiusi e quindi vanno contro il piano, oppure c'è la terza opzione che è quella di importare rifiuti. Dunque questo è il servizio sulla questione vicenda rifiuti, cambiamo decisamente argomento, performance e letture per la notte del Vico, siamo sempre a Chieti, domani al liceo verrà promossa la cultura classica e mostrarne l'attualità. Andiamo ancora avanti, approvata la consulta della scuola sia al progetto 5 Stelle, poi l'Adria, il consultorio dell'Ast, distributori automatici forzati, in basso la storia che arriva da Chieti per colpa tua o la cistite, accoltella il marito, una donna finisce a processo. Cambio di statuto, Ecolan si salva, siamo alla pagina di Lanciano Vasto Ortona, il Consiglio di Stato non si pronuncia sull'affidamento in house del servizio di igiene urbana ai comuni, ecco le motivazioni, no a commissioni tra controllori e controllati, ora c'è attesa per la sentenza del Tar sui casi di Lanciano Ortona e San Vito, poi Lanciano, ente manifestazioni, arrivano le nuove sezioni ma in vista ci sono altri tagli e poi Ortona, il dragaggio del porto via libera dal settore gestione dei rifiuti. Lanciano, Croce Gialla, il processo per truffa si sdoppia a Vasto, a fuoco due auto, scatta l'inchiesta, ancora Vasto, allarme in via Spataro, balconi a pezzi. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero, sicurezza della diga, i sindaci chiamano l'Enel a collaborare, il piano di emergenza prevede un nuovo sistema di allarme sonoro, sarà suggerita al governatore anche la ristrutturazione della pedemontana politica, direzione Italia vuole riunire il centrodestra e poi le elezioni all'Università di Teramo, piovan per la prima volta nel CDA. Andiamo ancora avanti, investimento mortale, il dolore ucciso anche il marito, poi la sentenza, maltrattamenti in famiglia, cinquantenne, patteggia. Siamo alla pagina di Giulianova della Val Vibrata, il PD affonde il piano del patrimonio. Siamo a Giulianova per il segretario Filipponi, le proposte avanzate presentano grosse criticità sia sul piano urbanistico che su quello sociale, dopo il no all'ospice in piazza della chiesa, dal cittadino governante, perplessità anche per le casette al tiro al volo. E poi Val Vibrata, carte d'identità tra code e chiusure. Ancora Giulianova, morte della Rapposelli, sarà decisivo l'esame del terriccio. In basso ad Albadriatica, centro d'erosione affidati gli incarichi. Ancora Giulianova, Arboretti, il sindaco, chiude tutto, sotto accusa per piscina, biblioteca, via Bindi e i lavori di corso Nazario Sauro. Rosetto degli Abruzzi, sosta a pagamento, scoppia la polemica. Siamo arrivati alle pagine dello sport, dobbiamo andare però a vedere invece le pagine interne del quotidiano La Città. Partiamo da pagina 3, la cronaca regionale e anche sul quotidiano La Città si parla della vicenda. Rifiuti, pronti ad accogliere i rifiuti romani per tre mesi. Oggi la giunta regionale chiamata a decidere sul conferimento. La Raggi intanto rassicura D'Alfonso. E poi la questione pedaggi autostradali, le proposte di strada dei parchi sono irricevibili. Il ministro del Rio, Bacchetta, il gestore, i piani economici e finanziari, come leggiamo qui dal quotidiano La Città, presentati, avevano tariffe ancora più alte. Rischio Campotosto, pronto il piano in caso di crollo delle dighe. A fine mese sarà consegnato alla Regione. Ieri a Montorio la riunione con il sindaco Giuseppe D'Alonso. Vedete in questo specchietto i 15 comuni interessati che sono Crognaleto, Fano Adriano, Montori Alvomano, Basciano, Penna Sant'Andrea, Teramo, Cermignano, Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio, Notaresco, Morrodoro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi. Nessuna prova della mazzetta all'ARP. Inchiesta Gommere, depositate le motivazioni della soluzione del gruppo Ettore, del dirigente, della società pubblica. La città del degrado, grande arte abbandonata al Parco della Scienza. L'opera di Exempla, firmata dall'artista Diego Esposito, da otto anni, giace fra Immondizia e Rottami. E poi in basso, restyling del corso, quasi terminati i lavori in Largo San Matteo. Geografia delle alleanze per direzione Teramo, la politica teramana e il partito di Rudy Di Stefano plaude a noi con l'Italia, ma alle amministrative sarà tutta un'altra storia politica. Ancora in questo articolo di spalla, 30 personalità disposte a candidarsi con liberi e uguali. Proseguiamo. Popolare di Bari, nel tritacarne delle faide dem, il senatore Quagliariello di idea stigmatizza il comportamento del governo nelle vicende bancarie. L'Udus banca le elezioni dell'Università di Teramo. Gianmarco Piovane è eletto come rappresentante in CDA. La coalizione legge 10 rappresentanti su 10 posti. L'obiettivo, dice Andrea Core, è lavorare per rendere Teramo una città accogliente. Per gli universitari e poi la facoltà di veterinaria dell'Università di Teramo, eccellenza nazionale. Primi fondi per l'area faunistica di Isola del Gran Sasso, un milione di euro dalla legge di bilancio. Il Comune intanto entra ufficialmente, vedete il titolo e il sommario, nella fondazione. E poi a Campli, sicurezza, più controlli su tutto il territorio. Il sindaco Quaresimale ha incontrato il prefetto Patrizzi. Montorio, convocato il Consiglio senza numeri, il sindaco di Centa. Domani l'Assemblea per dimostrare che non ci sono possibilità di surroghe. Si parla ovviamente della crisi amministrativa al Comune di Montorio. I progressisti, con la nostra scelta, abbiamo impedito che nel Consiglio, dicono, qualcuno passasse in maggioranza. Proseguiamo ancora. Val Vibrata, Santomero, la proa è l'ospita, il campione che ha sconfitto la malattia albadriatica. Pastrocchio, sulle adessioni alla Lega, l'annuncio dell'ingresso di Salvi e Tribuiani è stato smentito dagli interessati. E poi Martinsicuro, patteggia tre anni per le violenze sulla moglie. Siamo alla pagina di Giulianova. Mastromauro attaccato su tutti i fronti. Doporetico, anche Arboretti e Cinque Stelle criticano l'abbandono della città. E poi nasconde la droga nella scatola delle scarpe. Rom in manette. In basso, il Comitato vuole partecipare alla stesura delle regole. Si parla dell'annunziata. Il Presidente Fusaro chiede più peso nella gestione della sala polivalente. Poi il lutto a Mociano Sant'Angelo perché è morto ad 87 anni l'ex sindaco Marco Battestini. Siamo alla pagina di Roseto. Roseto al centro. L'opposizione svolge solo il suo compito di vigilanza. Di Girolamo, il sindaco della città rosetana, non teme sgambetti dei suoi. L'esito delle politiche non impensierisce. Il sindaco che apre agli operatori. E poi in basso, il sindaco sporge denuncia per il migrante aggredito. Vincenzo Di Marco di Castellalto esprime solidarietà al richiedente asilo rosetano. Siamo ancora a Roseto per parlare di politica, anche se in chiave anche nazionale, perché i tancrediani sono al bivio per la scelta petalosa. Il passaggio nella lista della Lorenzin mette Pavone, Di Giulio e Di Marco di fronte ad una scelta di campo. Andiamo ancora avanti. La pagina della cultura. Padre e figlia nell'incubo dell'eroina. Andrea Carraro, ospite dello scambialibro, con il suo nuovo romanzo intitolato Sacrificio. Poi c'è quest'altra pagina dedicata proprio alla professione di giornalista. Il mondo dell'informazione a scuola con la città serve un'informazione corretta e responsabile. Lo dice il Presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. La prima regola, il rispetto della dignità delle persone. Vedete a tutta pagina l'intervista con il Presidente dell'Ordine dei giornalisti regionale d'Abruzzo, Stefano Pallotta. Siamo allo sport, si parla del Teramo, in questo caso sul quotidiano della città. Mercato fermo. Il Teramo può rimanere così. Il rischio di non voler investire è considerata la situazione del Vicenza. È concreto. In entrata nessuna trattativa. E poi si parla di eccellenza della Coppa Italia. Real Giulianova pari nella semifinale con lo Spoltore. I giallorossi due volte in svantaggio riescono a rimontare nell'altra semifinale. La Torrese ha superato il Chieti. Di misura possiamo andare a vedere le pagine dello sport del quotidiano Il Centro. Balzano, Pescara, Eccomi, Perrotta. Noi tra le prime cinque il terzino e il difensore centrale parlano durante questa fase di sosta del campionato. Vogliamo riscattarci. Zeman è molto carico. Il difensore centrale, Perrotta, dice, abbiamo i mezzi per disputare un grande girone di ritorno. E vediamo. Mazzotta a sorpresa vuole restare con Zeman. Questa è la notizia delle ultime ore a sorpresa, sicuramente, questa decisione di Mazzotta che aveva trovato l'accordo con il Parma. Il laterale ha poi rifiutato proprio Parma e Brescia. Cappelluzzo invece è prossimo ad accasarsi a Vercelli. Oggi è il giorno di Embalo al Pescara. Vediamo qualche altra notizia che riguarda il calcio di Serie B il Pescara, ma non solo perché si va avanti al ritmo di doppie sedute per quanto riguarda i Biancazzurri che mercoledì prossimo alle 15 giocheranno allo Stato Adriatico un test amichevole con il Lugano. E poi mercato di Serie B. Piovaccari firma per la Ternana. Entusiasmo ad Ascoli, 200 tifosi per l'arrivo dell'ex Biancazzurro Gans. Andiamo avanti. Siamo alla pagina che riguarda la Serie C. Teramo, 5 a D e 3 innesti per sognare i play-off. In partenza Diallo, Paolucci, Foggia, Altobelli e Sumare. Crisi Vicenza e giocatori danno tempo al club fino a domani. E poi ci spostiamo a centro pagina per parlare di Serie D. Miani, L'Aquila manterrà gli impegni presi. L'amministratore ha l'obiettivo di risanare i conti. Dionisi Aureli fuori dall'organigramma. E poi il mercato perché a vasto arriva Maronilli. Mecomonaco tentato dai Nerostellati. Il tecnico domenica seguirà dalla tribuna il derby di Francavilla tra Francavilla e Nerostellati e poi darà una risposta al presidente Pace. Intanto il Francavilla perde Zerbo che è stato squalificato per due giornate. La Coppa Italia di eccellenza, le semifinali di andata. Torrese che ha battuto il Chieti per 1 a 0. Il gol vittoria per la formazione di casa è stato segnato da Torbidoni al 26esimo della ripresa. 2 a 2. Dunque gara a suon di gol tra Spoltore e Giulianova. Con il Giulianova due volte sotto e due volte capace di recuperare. E poi i recuperi di promozione. Il Tossicìa è il primo sorriso. Il fanalino di coda del Gione A ha battuto il Mutignano per 1 a 0. L'altro recupero ha visto il pareggio tra Mosciano e Pucetta. 1 a 1 il finale. Basket Serie B. Parla il coach del Teramo Basket, Piero Bianchi. Teramo e da playoff in linea con gli obiettivi. Il club sta facendo tanto per rinverdire i fasti del passato. In Serie D. Chieti e Cepagatti avanti. E siamo all'ultima pagina di Sport del Centro. Ciclismo. La novità. Masciarelli un ponte con il Belgio grazie alla Caland Dolcini. Nuovo team dedicato ai giovani. Il nipote d'arte Lorenzo tra le punte di diamante del club presieduto da Dottore. Poi calcio a 5. Mati Rosa e la Pereira. Terzi agli awards 2017 di calcio a 5. Dunque ragazzi e pescaresi in evidenza. E poi basket di Serie B. Etomilu torna Gallerini alla guerra Ortona. Piace Costa. Marchetti va a Nardò. E volley di Serie A 2. Banks oggi il consulto per i tempi di recupero del pallavolista della Sieco Ortona. Rugby. L'Aquila e Gran Sasso. Domenica in trasferta. Domenica infatti torneranno in campo le squadre abruzzesi di rugby con nel girone 4 l'Aquila che sarà di scena alle 14.30 a Benevento. Mentre per la Gran Sasso ci sarà la trasferta in Terra Umbra a Perugia. Infine la vela perché sabato a Pescara ci sarà la festa regionale, la sala dei marmi della provincia, le premiazioni delle migliori espressioni del movimento. Possiamo andare a vedere le pagine dello sport del messaggero. Mazzotta ci ripensa. Vuole il Pescara. Il terzino siciliano ha fatto saltare un'operazione già chiusa con il Parma. Oggi si riapre il discorso per Embalo. Gravillon è atteso lunedì all'appoggio degli Ulivi. E intanto i tifosi si mobilitano per la trasferta di Foggia. Il campionato che tornerà il 20 gennaio con i biancazzurri attesi proprio allo Zaccheria. Si stanno organizzando dei pullman. Tra questi anche ci sarà il pullman del club, quelli del Delfino. E poi ancora il mercato che riguarda il Pescara perché ci sono delle notizie anche importanti. Lecce infatti è in pole position per Ransford Selassie. Bovo rescinde il contratto. E poi invece la serie D. La serie D è qui in basso nell'intervista nelle dichiarazioni rilasciate dal nuovo amministratore delegato dell'Aquila Miani che dice l'Aquila non finirà come l'Ancona. Il nuovo amministratore delegato si autopresenta. De Nicola l'ho conosciuto e lo conosco ma qui non c'entra. Siamo all'altra pagina che riguarda lo sport dal messaggero. Il Teramo. Si parla del Teramo soprattutto indirettamente anche di quello che sta accadendo a Vicenza. Vicenza in agonia. Nessuno paga gli stipendi. Oggi ultimo giorno l'asso calciatori proclama lo stato di agitazione. Barbuti. Difficile mantenere la concentrazione in questo clima. Mercato in stand by. Tra l'altro il Vicenza calendario alla mano e prossimo avversario del Teramo. Ma la gara tra i biancorossi abruzzesi e i biancorossi veneti potrebbe anche non giocarsi se non dovesse essere risolta. La crisi davvero molto difficile che sta vivendo la formazione veneta. Siamo alla Coppa Italia di eccellenza. Abbiamo visto anche dalle pagine del centro e del quotidiano La Città. Real Spoltore pari con il Real Giulianova. Torrese passa con il Chieti. Poi vedete in basso la mezza pagina come sempre che il giovedì il messaggero dedica al calcio Wisp. De Luca non dobbiamo mollare un centimetro parla l'esponente della DL Pescara United. Poi Pincelli non siamo un rullo compressore. In questo caso parla l'esponente del Pentagono Pescara. Infine Palumbo della Nautilus. Pensiamo al presente. Poi si vedrà. Siamo quasi in chiusura ma andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Oggi in edicola partiamo dalla Gazzetta dello Sport. In alto giochi invernali prove di Corea Unita con Hokei e Bob perché c'è stato questo incontro tra i politici e i dirigenti sportivi delle due Coree in vista dei giochi invernali a cui prenderà parte anche la Corea del Nord e ci potrebbero essere ci saranno queste prove di Corea Unita soprattutto in due sport molto popolari nei due paesi asiatici ovvero Hokei e Bob. Dai giochi invernali al calcio. Inter bollente. Rafinha sempre più vicino. Ramirez io verrei dice il giocatore che sogna l'Inter e Sexy Cardi alle Maldive. Mancini voglio fare il CT. Parla l'ex tecnico tra l'altro dell'Inter ma di tante altre formazioni. Mi piacerebbe vincere un mondiale e un europeo. Il problema non sono i soldi. Abbiamo giovani bravi. Romagnoli, Pellegrini, Belotti. Ho rifondato l'Inter. Spalletti. Arriverà terzo. E poi Mirabelli il direttore sportivo del Milan dice il mercato è chiuso almeno in entrata. Gattuso non è un ripiego. Lavora più di meno. Noi non abbiamo speso troppo. Grandi valori. Nessun flop. E poi la Juve è il numero uno in più. Un gol subito in otto gare. Così Serzeni sta scavalcando la vetta Buffon. L'erede di Gigi è un ex bomber. Suona il pianoforte a lobby dell'arredamento e sa come chiudere la porta. E la signora boom in borsa. La regina d'Europa del 2017. E poi altri titoli che riguardano il calcio. Tavecchio tecnico a giugno. Si parla ovviamente del nuovo allenatore della nazionale italiana. Ora di Biaggio. Figgici avanza. Sibiglia per la presidenza della federazione italiana gioco calcio. In basso ancora il mercato. Ancora il calcio. Il Napoli insiste. Verdi o De Lofeu. Castan a Cagliari. L'Atalanta prende Rizzo. Drame e Curtic alla spalla. Il Genoa punta Locatelli. E poi Di Francesco. Roma non da scudetto. Questa è la missione del tecnico pescarese della formazione giallorossa. E poi il Torino e Bellotti scalpitano. Mazzarri prepara il ritorno del Gallo. E poi ne parlavamo prima in riferimento al Teramo. La società a rischio. Niente stipendi. Vicenza. E la fine dunque sono ore decisive per il futuro di una delle squadre più gloriose del nostro carro. Cioè il Lanerossi. Vicenza. Andiamo dalla Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport. Papà Verdi rivela cosa farà Simone. Ama Bologna. Ma Napoli può essere protagonista. E poi clamorosa Premier. Celsi su Allegri. Per il dopoconte. La nazionale può perdere Ancelotti. L'Arsenal pronto alla mega offerta per l'ex tecnico di Milan e Bayern. Monaco. Londra. Vedete il titolo. Li chiama. E siamo a tutto sport. In alto. Euro Toro con Mazzarri. Si parla del Torino che con l'avvento del nuovo tecnico nella prima partita che ha visto Mazzarri sulla panchina Granata ha vinto la gara con il Bologna. Dunque sicuramente esordio positivo per Mazzarri che vuole riportare in alto le sorti della formazione Granata. E poi la svolta di Allegri per conquistare il settimo scudetto consecutivo. Quattro moduli diversi per sfruttare al meglio le qualità dei campioni bianconeri e per sorprendere gli avversari. Vediamo il mercato negli articoletti di spalla. Nei richiami di spalla. Qui della prima pagina di tutto sport. Spalletti spera. Ramirez esce allo scoperto. Voglio l'Inter. E poi Napoli accordo con Delofeu in attesa di Verdi. Si tratta con il Barcellona proprio per Delofeu. E poi altri affari. Dramea laspal. Atalanta. Arriva Rizzo. Castan. A Cagliari. E noi siamo giunti al termine con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali al termine di questa edizione di oggi di giovedì 11 gennaio con Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8. Io ringrazio Silvia Gentile in regia. Ringrazio voi per averci seguito e come sempre vi rinnovo l'appuntamento alle 14 per la prima edizione del TG6. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie.